Ben trovati allenatori nel nostro consueto appuntamento dedicato al mondo del collezionismo come sempre io sono Roberto e io sono Jacopo Oggi vi portiamo un video che è la continuazione ideale di quello dell'altra volta in cui rispondevamo alla domanda dove è possibile comprare le carte Pokémon? Quindi se da un lato le carte Pokémon si comprano, dall'altro si vendono Molti di voi infatti ci hanno chiesto dei consigli pratici su come vendere le carte come cominciare a vendere le carte, dove venderle, come fare Per questo abbiamo deciso oggi di portarvi questo contenuto Prima di cominciare oggi dobbiamo promettere di essere brevissimi Proprio brevi 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 Come sempre Jacopo ci sostiene anche in queste iniziative che lui non ama particolarmente perché lui è un uomo da spacchettamento però è sempre in nostra compagnia quindi ci dà la forza di andare avanti Allora ragazzi, prima di cominciare vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi al canale lasciare un like se vi piace questo video e lasciare anche un commento magari se vi piace questo tipo di contenuti o se ci volete fare qualche domanda a cui noi magari, su cui noi possiamo dedicare un video la prossima volta Allora ragazzi, cosa molto importante tra i link in descrizione trovate anche sempre aggiornato il link con le nostre carte da scambio i nostri contatti Instagram, Telegram e Discord direi che ho detto tutto Quindi oggi naturalmente ci avvarremo sempre della grafica così almeno quando noi vi vogliamo far passare qualche concetto voi riuscite anche a vederlo graficamente Ci sei? Quindi dopo questo video tu devi essere in grado di vendere le carte in autonomia Giusto? Ok, allora ragazzi Andiamo a cominciare La risposta alla domanda a cui sentiremo di rispondere oggi è Come posso cominciare a vendere le carte? In tantissimi ce l'avete chiesto E noi per questo vi portiamo questo video Prima di tutto, prima di cominciare con la vendita delle carte Una cosa da capire è il valore della carta Quindi a che valore ha questa carta? A quale prezzo la posso vendere? Naturalmente uno dei fattori che incide maggiormente sul valore di una carta Quali sono? Cosa sono? Le? 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 Le condizioni Esatto In che condizioni è la vostra carta? Naturalmente c'è bisogno di un parametro oggettivo Perché magari ci possono essere delle situazioni in cui Non ci si riesce ad accordare sulle reali condizioni della carta Quindi è necessario dare una valutazione oggettiva a quelle che sono le condizioni della carta Per fare questo io vi consiglio di andare sul sito che si chiama Card Market In cui c'è un'ottima guida che vi dà un'infarinatura su quello che sono le principali terminologie utilizzate Per quanto concerne la classificazione delle carte per quanto riguarda le condizioni Naturalmente una volta stabilito con esattezza quelle che sono le condizioni della carta Si può determinare il valore Quindi naturalmente bisogna determinare il valore della carta una volta appurate le condizioni Per determinare il valore della carta Quindi per determinare un prezzo di vendita Io vi consiglio fondamentalmente due siti Il primo sono i venduti di ebay Che è il sito più grande per quanto riguarda le aste E il secondo invece per avere un trend di prezzo Quindi come si è mossa la curva dei prezzi di una determinata carta Di un determinato oggetto, di un particolare articolo Mi è molto utile Card Market Che vi dà l'evoluzione del tempo del prezzo di quella determinata carta Quindi il primo step per vendere le carte è determinarle condizione e valore Allora, quali sono i siti principali su cui puoi andare a vendere le carte? A mio avviso il sito principale è ebay Su ebay si vende bene Tuttavia ci sono delle controindicazioni Ad esempio ci sono delle commissioni molto elevate sul valore finale L'inserzione è tendenzialmente gratuita se non avete grandi pretese Tuttavia alla fine ebay trattiene sul prodotto Sul prezzo finale di vendita il 10% Quindi se voi vendete una carta a 20€ Considerate che 2€ alla fine se li prende ebay Sì Ok Quindi naturalmente su ebay Così come fra l'altro anche su altri siti È importante il concetto di feedback Più feedback alti avete Più è facile che le offerte si alzano Il feedback non è altro che la reputazione di una persona Che so, se tu sei uno che vende sempre in maniera corretta le carte E allora il tuo feedback si alza Quindi più persone sono invogliate a comprare da te Tuttavia se invece magari nel tempo ci sono state delle problematiche I feedback potrebbero incidere negativamente sulla tua reputazione E quindi le persone che vogliono acquistare un tuo oggetto Rimangono più, cioè sono più restie nel fare offerte Questo fondamentalmente Il principio del feedback vale anche su card market Che tuttavia ha anche delle commissioni elevate Quindi il reale valore finale io tendenzialmente non ve lo so dire Perché non vendo mai su card market Noi principalmente vendiamo su ebay Subito e facebook Difatti, subito che già avevamo visto per l'acquisto delle carte Così come anche facebook Sono due importanti strumenti per poter vendere facilmente le proprie carte Perché ho messo sia il marketplace che facebook? Perché ci sono anche tantissimi gruppi facebook Dedicati alla compravendita delle carte collezionabili Pokemon, Yu-Gi-Oh, Digimon Basta cercarli e li troverete Lì diciamo che i gruppi facebook Secondo me sono molto migliori per chi vuole acquistare Più per chi vuole vendere Perché tendenzialmente c'è un pubblico molto vasto E ci sono tantissime offerte E che questo fa tendenzialmente scendere i prezzi di vendita Sì Perfetto Quindi il principio Tutti funzionano dopo registrazione Molto sei, forse subito non c'è bisogno di registrarsi Quindi vi dovete a tutti registrare Io vi consiglio di puntare su ebay Subito è il marketplace di facebook In cui potete naturalmente creare Belle inserzioni normalissime Andiamo avanti Una volta determinato il prezzo di vendita Le condizioni E il portale a cui affidarvi Per poter vendere le carte È importante creare l'annuncio Perfetto Perfetto Esatto Ci sono delle regole Affinché il vostro In modo tale che il vostro annuncio Risulti il più appetibile possibile Per chi vuole acquistare Allora queste regole sono molto semplici Alcune delle quali andremo a vederle Con più attenzione Cercate di fare un titolo Chiaro e conciso Nel senso Il titolo deve catturare l'attenzione Di chi cerca quell'articolo Quindi non scrivete Non scrivete tanti ghirigori Mettete Pokémon Nome dell'espansione Nome della carta Numero di espansione E condizione della carta Boh Basta Non perdetevi In descrizioni Troppo prolisse Troppo lunghe Che poi alla fine Non fanno altro Che creare confusione Poi Cercate di creare Una descrizione Precisa E non dispersiva Date soltanto informazioni Ben chiare Sulla carta Le condizioni della carta Il prezzo di vendita Il Per esempio Delle Cosa si può dire Ad esempio In un buon annuncio Ad esempio Il Di che espansione Di che espansione Quindi tutta La lingua Tutte quelle che sono Delle informazioni Utili Ma non dispersive Poi Create tante foto Più foto mettete Più le persone Possono verificare Le reali condizioni Dell'articolo Quindi ad esempio Se ci sono delle Le condizioni Se un mint Un near mint Un good Un pur Insomma Tutte queste informazioni Vengono trasmesse Tramite le fotografie Poi Cercate di offrire A chi acquista Varie tipologie di spedizione Quindi da una spedizione Economica Come potrebbe essere La posta 1 Fino a una spedizione Invece più sicura E dettagliata Come potrebbe essere Per esempio Un corriere Prezzi diversi Prezzi diversi Per tutte le esigenze Infine Cercate di affidarvi Soltanto A dei sistemi Di pagamento Sicuri Sia per voi Che per chi compra Queste sono utili informazioni Adesso andiamo a spulciarci Gli ultimi tre punti Quindi Le foto Le spedizioni E i pagamenti Che sono La parte Secondo me Più delicata E sulla quale Ci avete sempre fatto Più domande Le regole Per delle belle foto Quali sono le regole Per delle foto Vai Numero 1 Fate la foto Della carta Fronte Fronte E retro Quindi della parte Quindi questo è il fronte E poi dietro E il retro Non utilizzate la sleeve Perché la sleeve Ad esempio Che cosa succede? La sleeve Ad esempio Vi fa il riverbero Con la luce Cercate di utilizzare Una luce Che non faccia Brillare eccessivamente La carta Perché ad esempio Rischia di venire Una foto Senza alcuna Che non rispecchia bene Le caratteristiche Cercate dunque Di utilizzare Una buona luce E non utilizzate Altri supporti Cercate soltanto Una buona luce Se riuscite magari Ecco per esempio Molto bellini Sono questi cavalletti Di qua Che sono veramente Veramente belli Come foto di presentazione Poi Utilizzare uno sfondo nero Non riflettente Per questo Noi abbiamo preparato Voilà Questo di qua ragazzi Che non è altro Noi l'abbiamo acquistato In un negozio di articoli Per la casa Che materiale è secondo te Jacopo questo? Non lo so Comunque non è un materiale Riflettente È uno sfondo nero La carta naturalmente Poggiata Sull'articolo L'articolo Poggiato Sul tappetino Risulta ben in evidenza E riesce a mettere Anche in risalto Eventuali problematiche Che possono esserci Sui bordi Quindi Questo è il mio consiglio Utilizzate sempre Uno sfondo nero Non riflettente Se ci sono Dei difetti Mi raccomando Ditelo Cioè Siate sinceri Quando fate un annuncio Se questa carta Avesse per esempio Una sbeccatura Sull'angolo Non cercate di nasconderla Sulla foto Ma Evidenziatela In modo tale Che chi compra Ne viene a conoscenza C'è un mio amico Che Che Ha detto Da grande Io voglio vendere Tutte le carte che ho Così ci guadagno tanto E tu cosa hai risposto? Io gli ho detto Ma quali carte? Quelle più rovinate che ho Tanto che Tanto Dopo Dipingo Se dietro Se dietro c'è È rovinato Dipingo tutto il blu Ecco Quelle carte sono carte Che nessuno si comprerrebbe mai Però nel senso Se avete una carta rovinata Ditelo Cioè Non nascondetelo nell'annuncio Cioè Questa è trasparenza Così come voi Non vorreste ricevere Una brutta sorpresa Cercate di non dare A chi acquista da voi Qualcosa che non vada bene Cioè Evidenziate eventuali difetti Ci sono Io vi consiglio poi Di utilizzare Il timestamp E una filigrana Per le fotografie Che cos'è il timestamp? Quando voi fate La foto della carta Mettete ad esempio Un bigliettino Accanto alla foto In cui mettete La data in cui avete fatto La In cui viene fatta La foto della carta E il vostro nome e cognome Così Chi va a vedere Il prodotto Sa che Voi ce lo avete realmente È una garanzia In più Che non state vendere Che non volete Truffare nessuno La filigrana Che cos'è? Ci sono tantissimi Programmini Per esempio Per cellulare Che mettono Gratuitamente Una filigrana Una filigrana Potrebbe essere Sai che cos'è? Per esempio Il nome e cognome Della persona Sulla fotografia Così se tu Volessi vendere La mia stessa carta Per truffare qualcuno Non lo puoi fare Perché Hai la filigrana Se tu ti chiami In un modo Non puoi utilizzare Una fotografia Che ho fatto io Rubandomela Perché nella fotografia C'è il mio nome e il mio cognome Questo è importante ragazzi Questa è una tutela Anche per voi Poi Utilizzate una buona luce Cercate una luce Che mette in risalto Le caratteristiche Della carta Non che faccia Un eccessivo riflesso Quindi queste sono Regole per una buona fotografia Passiamo alla spedizione E l'imballaggio Siate sempre chiari Su quello che frite Come spedizione Quindi Ad ogni servizio Deve corrispondere Un prezzo E che sia reale Non chiedete 9 euro Per una raccomandata La raccomandata Costa 6,95 Sotto i 100 grammi Non potete chiedere 9 euro Per una raccomandata Questo è un importante valore Se poi volete dare Ancora più Appetibilità Al vostro articolo Magari potete scegliere Di offrire una spedizione Scontata Dividendo per esempio Le spese di spedizione Ovviamente questo Lo dovete ben calcolare Quando determinate Il prezzo di vendita Cercate come detto prima Di dare a chi acquista Varie possibilità Non si spedisce Solo tramite Questo Cercate di dare Più alternative Posta 1 Raccomandata Posta 4 Quello che volete Il mio consiglio È quello di utilizzare Soltanto spedizioni Tracciate Però capite che Se io compro una carta Da 10 euro Ci devo pagare 6 euro di spese Di spedizione Non me la compro Non ha senso Costa quasi più La spedizione Che la carta Poi Buste Utilizzate buste Con il pluriball Che cos'è il pluriball Jacopo Questo Che fa Tutto Questo è bellissimo Ed è molto utile Perché per esempio Dà la possibilità Noi solitamente Utilizziamo Questo lo diciamo Tutti insieme Buste con pluriball Quindi Queste buste di qua Il pluriball Ce l'hanno all'interno Buste gialle Costano 20 centesimi Non costano Ci sono di tutte le dimensioni Se dovete spedire pacchetti Se dovete spedire carte Quindi tutte le dimensioni Riuscite a trovare In cartolibreria E hanno il pluriball Che è una garanzia In più Per le vostre carte Vi consiglio anche Di utilizzare il pluriball Per avvolgere le carte Io solitamente Quando le spedisco Come faccio Per esempio Devo spedire Ecco Devo spedire Questa carta di qua Ecco Mettiamo che abbiamo venduto Scarta oggetti Ci sei? Quindi cosa faccio? Metto una sleeve Alla carta La metto dentro Un top loader rigido Ci sei? Poi cosa faccio? Utilizzo Due pezzettini di cartone Sagomato Ad hoc Lo scotch di carta Perché lo scotch di carta Non rovina Né i top loader Né le carte Non utilizzate Lo scotch normale Se non rischiate Di rovinare Tutto Utilizzate lo scotch di carta E poi Attorno al cartoncino Che ho utilizzato Ci metto anche Uno strato di pluriball Così siamo sicuri Che la carta Non si muove Dentro la busta E soprattutto Arriva Integra A chi L'ha acquistata Che è la cosa più importante Voi dovete essere Dovete seguire la vendita Fino a quando Non arriva Al cliente Ragazzi Dovete offrire Un buon servizio Se volete Ottenere Dei risultati Duraturi Andiamo avanti Dopo la spedizione Anzi Prima della spedizione C'è un altro importante aspetto Qual è quello del? Del pagamento Esatto Dovete incassare Questi soldi Il mio consiglio È quello Di prediligere Pagamenti Tracciabili Che cosa vuol dire? Il non plus ultra Per me È Paypal Perché vi dà la possibilità Di ricevere il denaro Immediatamente In varie forme E vi dà la possibilità Poi di spenderlo In moltissimi modi Ovviamente Io l'altra volta L'ho detto Quando acquistate Non utilizzate Poste Pay Perché Poste Pay È carta straccia Però Se qualcuno Per esempio Vi chiede di utilizzare Poste Pay Come metodo di pagamento Per chi acquista Obiettivamente Potrebbe essere Alcune persone Lo richiedono Espressamente Quindi è un servizio In più Che voi potreste offrire Così come ad esempio Un bonifico bancario Poi ci sono varie applicazioni Per esempio Satis Pay Che vi dà la possibilità Di trasferire il denaro Importante Faccio un appunto Su Paypal Qualora Doveste vendere Tramite Paypal Beni e servizi Ricordatevi Che sul valore finale Dell'oggetto C'è il 4% Di commissione Quindi Paypal Si trattiene il 4% Quindi vuol dire Che se voi Mi dite di pagare 100 euro Alla persona Quindi a voi Arriverà 100 euro Meno il 4% Quindi arriveranno 96 euro Dovete quindi Ben capire Questa commissione Se graverà Sulla persona Che acquista Oppure decidete Di accollarvi voi Il costo Oppure di dividerlo Questa è una vostra scelta Importante Se qualcuno Vi paga Con Paypal Beni e servizi Scatta la protezione Acquisti Quindi Mi raccomando Utilizzate Soltanto Dei metodi Tracciati Nemmeno la posta 1 Che vi da Semplicemente Una notifica Di consegna Ma dovete utilizzare Almeno La raccomandata Altrimenti La persona Che riceve L'acquisto Può rivalersi Su di voi Dicendo che L'acquisto Non è mai arrivato Attenzione Ragazzi Informatevi bene Sul Sul Paypal Bene Servizi E come vi dicevo Attenzione Alle commissioni Io personalmente Quando acquisto Richiedo Che venga Che mi venga Che il pagamento Avvenga tramite Beni e servizi Perché è una garanzia In più per me Che acquisto Ma Onestamente Anche quando vendo Io preferisco Che mi paghino Tramito Con Paypal Bene e servizi Nella stragrande Maggioranza Delle volte Il costo La commissione Me l'accollo io Naturalmente La calcolo Sul valore finale La calcolo Su quello Che voglio Che sia Il prezzo Di vendita Mi raccomando Non mi fate Fredare Quindi ragazzi Queste sono Delle piccole E utili Informazioni Che Volevamo darvi Per completare Il discorso Iniziato L'altra volta In cui Vi avevamo dato Gli strumenti Dei suggerimenti Su dove Acquistare le carte Oggi abbiamo voluto Rispondere alla domanda Come Quali sono I primi passi Da fare Quali sono Gli strumenti Utili da avere Affinché Si possa Iniziare A vendere Le carte Che possono essere Carte Pokemon Digimon Yu-Gi-Oh Figurine panini Giochi Videogiochi Megagiochi Fantagiochi E tutto Quindi spero Di essere Stato Chiaro Se avete Dei dubbi Delle domande Delle perplessità Scriveteci Non vi preoccupate Nei commenti Tramite Instagram Tramite Discord Tramite Telegram Contattateci ragazzi Anche se volete Semplicemente un aiuto Nel determinare Il corretto prezzo Di vendita Di quello che volete Mettere voi In vendita Contattateci Non vi preoccupate Noi un momento per voi Lo troviamo Sempre Quindi ragazzi Prima di salutarvi Vi ricordiamo Di iscrivervi al canale E lasciare un like Al video Se vi piacciono Questo tipo di contenuti Noi adesso Ci vediamo Come sempre Venerdì Perché Spacchettiamo Come sempre In live E spacchetteremo Fiamme oscure Perché dopo che abbiamo Finito di spacchettare Futuri campioni Dopo la delusione Cerchiamo adesso Di trovare Qualcosa Con fiamme oscure Quindi ragazzi L'appuntamento È per venerdì sera Alle 21.30 Come sempre In live Da Roberto E da Jacopo È tutto Ciao ragazzi Grazie di essere stati con noi Ciao Ciao